Il catalogo In Almagna 231 Cento in Francia e Turchia 91 Ma in Spagna Ma in Spagna Sono già mille e tre Mille e tre Van far queste contadine Camerieri cittadine Van contesse baronesse Marchesone, principesse e madonne D'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età D'ogni forma, d'ogni età In Italia 640 In Almagna 200 e 31 Cento in Francia e in Turchia 91 Ma 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 In Spagna Mettere Ma ma mi spagna Sconta 1,100 1,100 1,100 1,100 Vada a queste contadine Camerieri cittadini Van contesse Marconesse Marchesone, principlesse D'ogni forma, d'ogni forma, d'ogni età D'ogni forma, d'ogni età Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.